Offese e insulti, aggressioni verbali e fisiche perpetrate per anni nei confronti della moglie anche dopo la separazione. E quanto una donna ha denunciato alla squadra mobile di Crotone che ha emesso nei confronti di un 48enne la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e di vieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico per maltrattamenti. Il provvedimento è scaturito proprio dalla denuncia della donna e dai successivi accertamenti condotti dagli investigatori della squadra mobile che hanno permesso di ricostruire la vicenda. L'uomo avrebbe continuato a maltrattare la donna non volendo lasciare il tetto coniugale come concordato nell'atto di separazione. Dopo la denuncia è stata attivata immediatamente la procedura del codice rosso con il coordinamento della procura di Crotone. In breve tempo sono stati raccolti elementi sulla base dei quali la procura ha chiesto e ottenuto dal GIP l'emissione della misura cautelare.